ma guarda che pigiù che c'è, mi raccomando non è rotta la cosa, ma perché? non ti faccio, non ti faccio, te la tengo lì addio malateglia aspetta aspetta dai dai, via dai, via dai, via dai 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 dai, via dai dai, via dai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.